Allora, cari amici di Radio Puggino NER, ci siamo collegati in diretta, ci siamo collegati all'improvviso per aggiornarvi, per farvi una radiocronaca speciale, per commentare insieme a voi ciò che sta accadendo in questo momento in diretta a Propaganda Live. Una telefonata improvvisa, una telefonata inaspettata e si sente la voce di Giorgia Meloni che sta cercando Sabina Guzzanti e vuole cercarla nei camerini ovunque. In realtà è la voce fuori campo di Sabina Guzzanti che imita Giorgia Meloni ed è un momento molto divertente ma eccola che esce fuori. Allora, siamo qui a Radio Puggino NER per commentare in diretta cosa dirà Sabina Guzzanti, un intervento sempre molto importante che abbiamo deciso di condividere qui in diretta con voi, per tutti coloro che non possono seguire in questo momento Propaganda Live in diretta, streaming sulla Sette, in TV, ma possono ascoltare il nostro commento così da anticipare quello che poi andranno a rivedere perché sarà senz'altro un monologo molto molto divertente come sempre quello di Sabina Guzzanti, ma eccola che ha iniziato dicendo la Meloni se ne sono andati i fasci, dice Sabina Guzzanti e inizia il suo monologo. Ora cerco di raccontarvelo in diretta. Dice la Guzzanti, ci tenevo a passare l'8 marzo con voi ma la situazione si è complicata, l'ha mandata fuori di testa, io gliel'ho detto, guardi, rivolgendosi alla Meloni, prima di cominciare a non risponderle più al telefono, insomma ci vuole anche un po' di distensione, di civiltà. Ma perché che mi sto a dire che io faccio la coatta, ma io ti dico che non mi ha mai visto quando faccio la coatta e ti auguro di non vedermi quando faccio la coatta, perché non sapete quello che posso fare quando faccio la coatta, dice ora Sabina Guzzanti con la voce di Giorgia Meloni, con la voce imitata di Giorgia Meloni, dice io volevo essere Britney Spears e che poi non ce so riuscita perché magno come Orietta Berti. Molto divertente questa battuta ragazzi. E poi con la sua personalità sul palco davvero è difficile non ridere ragazzi, ma cerco di raccontarvi cosa sta dicendo in questo momento Sabina Guzzanti. Dice ho deciso di non parlarvi bene più perché per me anche un buon periodo sono presa bene, come direbbe Ferragni. Per la Sardegna naturalmente dice Sabina Guzzanti perché la Sardegna è figa perché sono contenta che li abbiano puniti per le manganellate a Pisa perché si è capito che non è invincibile e forse non è neanche tutto sto genio del male. Fino a un po' di tempo fa tutti che dicevano è bravissima, peccato si circonda sempre di pippi al sugo. Ora, dopo Michetti a Roma che parlava solo da antichi romani, Truzzo in Sardegna col tatuaggio Truz, sto Marzili dice la Guzzanti che dice che l'Abruzzo è bagliato da tre mari, che il Bosforo... non è facile non ridere... se Istanbul ci avesse il mare sarebbe una piccola Roseto degli Abruzzi, dice Sabina Guzzanti. Adesso la gente comincia a dire che forse si circonda di pippi al sugo perché le pippi al sugo la rappresentano. Mi è venuto il dubbio che pippi al sugo è una cosa che si capisce solo a Roma, dice la Guzzante. Si capisce secondo voi? Comunque Meloni l'ha capita perfettamente. Anzi, ho scoperto che ci ha costruito pure sopra tutta una teoria, mi ha detto per me guarda, mi sono sempre trovata bene con le pippi al sugo, a pippi al sugo ti è sempre grata perché sa di essere una pippi al sugo, a pippi al sugo non te tradirà mai, per me pippi al sugo tutta la vita. Poi che c'è è che siccome a voi dei capalbio non vi piacciono le pippi al sugo non ci devono piacere ma anche a noi è finita la vostra egemonia. Ma quante volte vedevo di queste povere pippi al sugo per decenni emarginate per motivi inspiegabili. oggi è il momento loro, ma per capire le pure si considera una pippi al sugo, chiede alla Meloni e si risponde no, io no e ne manco mi sorella, già su mi madre però non ce giurerei, fa dire imitando la voce della Meloni. A questo punto per liberarmene, parlando di nuovo con la sua voce, dice la Guzzante, io ho scritto un'email dicendo Giorgia Meloni, la verità peraltro, voi non lo sapete ma sono stata incaricata di aiutare Schlein a prepararsi al primo confronto televisivo con Meloni, quindi l'ho scritto per ragioni di opportunità, mi dispiace, dobbiamo interrompere questi incontri. Come avete visto non l'ha presa bene, però pazienza, io non è che mi faccio intimidire, io non ho paura, e poi fa la scenetta, oddio ho sentito il rumore, scusate, e imita la voce della Meloni che dice eccola l'ho vista là, acchiappatela, ecco quindi, ed esce dicendo buon 8 marzo, e esce come se la Meloni stesse per entrare, facendo naturalmente la Meloni, imitando la voce della Meloni, stesse per entrare per acchiapparla, ecco quindi è come se si fosse sdoppiata questa volta un intervento, un monologo molto molto bello di Sabina Guzzanti che vi invito ad andare a vedere appena potete, andatelo a rivedere sulla 7. Ebbene cari amici, è stato davvero un piacere vivere questo momento insieme con voi, avere l'opportunità di raccontarvelo in diretta per tutti coloro che ora magari sono in macchina e possono soltanto ascoltare la mia voce, allora vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, YouTube dove trovate tutte le altre puntate di Radio Pugginio NER, il mio canale YouTube Marco Puggini dove trovate anche naturalmente le mie canzoni, ecco a proposito della mia voce vi invito ad ascoltare anche le mie canzoni. Un abbraccio a tutti voi, alla prossima puntata di Radio Pugginio NER.